L'anticipo della 35esima giornata nel girone C mette di fronte Foggia e Casertana. Domani allo Zaccheria è una gara che avrà molto da dire, in quanto le due formazioni concorrono ancora per i rispettivi obiettivi. Il Foggia di Cudini, in grande crescita nell'ultimo periodo, nonostante la sconfitta per 3-0 in casa della Tina nell'ultimo turno di campionato, i Satanelli sono in decima posizione, la partecipazione ai play-off è d'alto rischio. Per questo motivo la Casertana rappresenta un grande banco di prova. I Falchetti, invece, a meno 5 dal terzo posto dell'Avellino, devono difendersi da Picerno e Taranto per blindare la quarta posizione, ma occhio anche al Giuliano a meno 3 dal quarto posto. Le ultime tre partite, per la compagina di Mister Cangelosi, hanno portato 7 punti con 2 vittorie e un pareggio. Non un caso, forse, che il momento positivo sia arrivato con il cambio del modulo da parte dei Falchetti, col passaggio al 4-2-3-1 e un curcio nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta. Auto Nicoletti, così come Proietti Cangelosi, valuterà il centrocampista toscano. Una gara da tripla che nessuna delle due squadre potrebbe permettersi di sbagliare per tenere ben salde le rispettive posizioni, anzi sperare nei passi falsi delle concorrenti per approfittarne. Il campionato volge al termine, i punti valgono probabilmente doppio, soprattutto in partite così.